In questo momento la FAI di Milano sta affrontando il rinnovo del contratto collettivo nazionale che vede in questi giorni, quindi alla fine di ottobre, impegnata tutta l'elegazione trattante per rinnovare il Cisciennelle. Diciamo che rispetto agli anni passati ci sono stati momenti di forte confronto e anche di dissapore nei confronti di fede alimentare perché i datori di lavoro vengono alla carica con richieste di cambiamento di quelle che sono le normative contrattuali, impegni rispetto a quelle attuali, tutto per affrontare il momento di crisi. Effettivamente anche il settore alimentare sta subendo la crisi dettata dalla crisi economica, in particolar modo in Italia, seppur le industrie alimentari hanno dei margini di miglioramento sull'export. I riflessi all'interno della nostra categoria e dell'industria alimentare del settore milanese comunque si risentono. Anche se i saldi occupazionali che avevano già avuto una caduta dall'anno 2008 ad oggi vengono mantenuti, chi ne sta facendo le spese in alcune aziende attualmente sono i contatti di lavoro a tempo determinato e i lavoratori interdinali che poiché i volumi sono carati non vengono più richiamati, quindi sono loro in primo luogo a pagare la crisi. Abbiamo aziende che sono in cassa integrazione straordinaria e in cigo per chi si organizza in cassa integrazione straordinaria e chi in cigo per carenza di volumi, quindi questo resta una forte preoccupazione per il settore dell'agroindustria. Nel settore agricolo abbiamo una forte difficoltà per quanto riguarda il comparto del florovivaismo che sta subendo la crisi in particolar modo in questo periodo anche perché i comuni e le province per quello che riguarda la manutenzione del verde hanno abbattuto i costi, quindi ci sono imprese in crisi, aziende che sono fallite anche del settore del florovivaismo e lavoratori che stanno adesso usufruendo degli ammortizzatori sociali in deroga. Quindi diciamo che il momento è un momento critico, è un momento particolare di difficoltà. Noi stiamo ovviamente affrontando questi tavoli di crisi in Assolombarda e comunque anche in Coldiretti cercando di andare a trovare quelle soluzioni che possano cercare di andare a garantire quella che può essere la salvaguardia dell'occupazione del settore agroalimentare, definiamolo così, quindi competente dell'industria e il settore agricolo del territorio di Milano. Certo è che dovrebbe essere dato un nuovo impulso alle buste paga dei lavoratori, quindi è con il rinnovo del contratto collettivo nazionale ma anche con una fiscalità agevolata per quanto riguarda i premi sulla contrattazione di secondo livello. Le prospettive di sviluppo sono che venga rafforzata quella che è la contrattazione di secondo livello e che si riesca a livello nazionale a raggiungere anche l'accordo sulla produttività nel quale stanno discutendo ad oggi Cigelli e Cislewil con Confindustria per dare nuovo respiro all'economia italiana e quindi anche all'economia milanese per quanto riguarda il nostro comparto e quindi riuscire ad uscire da questa crisi che sta attanagliando sempre di più le famiglie dei lavoratori e i lavoratori stessi che quando andiamo a fare le assemblee ci rappresentano la loro difficoltà sia che l'azienda riesca a mantenere l'occupazione ed in particolar modo in quelle situazioni di effettiva crisi dove prospettive per le aziende ce ne sono veramente poche.